Nell'Europa divorata dal nazismo, molte famiglie ebree riuscirono a salvarsi vendendo intere collezioni d'arte. Milioni di altre finirono sterminate nei campi di concentramento. Un'un dei più grandi pilleure dell'Historia Le proprieta che sono sempre stato deportato in dei campi di nazi. Le peccato, le lettere, cambiarono la mia vita. L'art di generare era per loro una monnaie d'échange. Le peccato, le lettere, cambiarono la mia vita. 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 Le peccato, le lettere. Le peccato, le lettere, cambiarono la mia vita. Le peccato, le lettere.